Allora, il roster è rimasto invariato, però sembra che questa nuova guida di coach Paludi forse era il neo che andava cambiato rispetto alla squadra dell'anno scorso? Rispondo io, ho molta umiltà, assolutamente sì, abbiamo preso il migliore allenatore che c'è in circolazione, il Paluz, e il roster è un po' cambiato, io ho perso addirittura il giocatore migliore, lui invece è andato a raccattare le maris. Questa è la verità dei Verdi, ho visto il cuore dei Verdi, grazie Paluz di averci riportato in finale, grazie davvero, grazie Ricca, grazie. E' la prima finale per l'All-Star Game, raggiunta dai Verdi, quindi sicuramente domenica sarà un'altra battaglia, domani saprà l'avversario. Intanto domani verrò a vedere con chi dovremmo giocare, siamo contenti, io la prima esperienza, a parte il secondo anno, la prima esperienza, quando mi fu fatto questa proposta, io ho accettato perché essendo fiorentino, il giocare in una location in questa maniera è da brividi, poi non mi aspettavo tante persone così, anche quando giocavo io, ormai nell'84, in quel periodo che c'era tanta passione, non era possibile, erano scomparse completamente. Comunque siamo contenti, questa è una squadra di fiorentini, tanti ragazzi bravi potrebbero fare una squadra di B, fiorentina a pochissime spese e a grandi soddisfazioni secondo me.